Ciao ragazzi, mi trovo a ovest della mappa per la precisione alla torre di trasmissione 0BB915. In queste torri, ce ne sono diverse nel gioco, grazie ad un terminale sempre di fianco potremo ampliare le loro parabole che ci faranno ascoltare dei messaggi radio più o meno importanti. Qui ne ho trovato uno e una richiesta di soccorso. Nei pressi delle torri i messaggi sono praticamente non udibili. Per fare in modo di sentirli bene dobbiamo spostarci in una determinata direzione in modo che il messaggio ci verrà sempre più chiaro. Qui ho notato che il volume del messaggio si amplifica andando in questa direzione, quindi proseguiamo. Cerco di stare sito in modo che potete sentirlo anche voi. Allora, il messaggio praticamente dice che questa, la persona che l'ha registrato, dice che è bloccato in un bunker nei pressi di un campo caravan, qualcosa che non è ben chiaro. Questo è il campo caravan, sentiamo. Il campo è questo, ragazzi. Io c'ero appena stato, ma onestamente il bunker, vi dico la verità, non l'ho visto. Vediamo di trovarlo. Proviamo ad aiutarci con la mappetta. Sempre molto utile, secondo me, io la uso spesso. Questa volta però, onestamente, non ho visto niente. Ancora non ci dà nessun aiuto, quindi vediamo di spostarci ancora. Niente che non potrei gestire in condizioni normali, ma ho preso un brutto colpo a una gamba, per cui una mano mi farebbe comodo. Siamo quasi al centro, quindi se è qua, se è proprio in questi pressi dovrebbe vedere. Ecco, ho letto qualcosa. Ecco perché non l'ho vista. Perché non si vedeva il quadratino. Rifugio, perché me ne siamo attaccati. Guarda dove, incredibile. Non l'avrei mai, onestamente, questo senza il messaggio radio, non l'avrei mai, mai trovato. Quindi, entriamo, vediamo cosa c'è. Spengo, ormai, il messaggio che non ci serve più. E vediamo. Ah, e qua, ovviamente, il messaggio viene ripetuto, perché è dove era stato registrato, in poche parole. Niente di che, niente di che. Questo poverino è lui, che ha registrato, che ha fatto una brutta fine. E abbiamo una cassaforte. Bravo, bravo, Umbi. Ok. Sì. Niente di che. Vediamo se c'è altro. A Strong, purtroppo, non piace mai niente, ragazzi. Ogni cosa che fai, lui non piace. Lo vuole solo menare. Per dire la verità, ragazzi, qua di bello non c'è proprio niente. Però, come vi ho già detto, io trovare queste cose nel gioco le adoro. Spero che piaccia anche a voi. E onestamente, come vi ho detto, senza quel messaggio io questo luogo non l'avrei mai, mai trovato. Ok. Direi che è tutto. Ovviamente, speravamo in qualcosa di meglio, ma... Non potevamo saperlo. Bye bye. Al prossimo luogo misterioso. Ciao, ragazzi.